Nardo di Pace, dodicesima edizione della Pinocchio in Bicicletta, siamo con Sua Eccellenza Monsignor Antiglio Nostro per questa bellissima manifestazione rivolta soprattutto ai bambini, alle giovani generazioni organizzata da Mimmo Bolzumi. Sì, ho sconfinato nella diocese di Catanzaro con il permesso del Vescovo perché questa iniziativa meritava anche la presenza della Chiesa e sono contento perché è un'iniziativa rivolta ai più piccoli, rivolta alle persone che magari a volte rimangono un po' ai margini, che rimangono dimenticati e mettere al centro i bambini, mettere al centro lo sport significa mettere al primo posto i valori che valgono di più nella società e sono contento perché la mia presenza sottolinea il fatto che la Chiesa vuole sottolineare la propria presenza nel migliore dei modi possibili. Quindi un grazie grande a chi ha organizzato questa giornata, a Francesco Moser che ha voluto essere presente e che oggi attraverso questa bella manifestazione riesce a portare un po' di gioia a tante persone. Grazie. Grazie.